Siamo con Antonio nei pressi del ponte del Tesino, sul ponte di Quattammare, prossimo la riapertura anche alle auto con delle limitazioni però ai mezzi pesanti. Qualche giorno fa il traffico era stato riaperto a tutti gli bicicletti. Chiediamo al signor Antonio se è soddisfatto dell'imminente apertura dopo vari mesi in cui non si poteva passare. Io secondo me ci passo spesso ma sono abbastanza soddisfatto di questa apertura anche se credo è abbastanza in ritardo da quando è stato giusto. Come si dice meglio tardi che mai infatti durante questo periodo ha dato diverse difficoltà per quanto riguarda il traffico però sono contento che si apra anche e soprattutto per l'apertura della stagione estiva. Grazie.